oh ragazzi come va tutto bene vi auguro prima di tutto una buona serata ma chi di noi non vorrebbe vivere senza lavorare cioè vivere senza lavorare penso che sia il sogno di ognuno e finiamola di prenderci in giro che il lavoro nobilità l'uomo i soldi non fanno la felicità tutte tutte queste cose chi non vorrebbe vivere senza lavorare potersi alzare l'ora che vuole pasteggiare a champagne caviale viaggiare divertirsi ristoranti pranzi viaggi posti vacanze eccetera eccetera chi non vorrebbe fare una vita per esempio la big luca chi di noi non vorrebbe fare una una vita una vita diciamo però c'è da dire questo ragazzi allora non prendiamoci in giro a parte ma in attaccagneria mai in attaccagneria ok ma è c'è un c'è un problema ragazzi c'è un grosso problema allora se uno vuole vivere senza lavorare e dice io nella vita non ho voglia di lavorare allora devi nella vita non cominciare mai a lavorare perché ragazzi vi dico una cosa se entrate nel sistema entrate in questo circo entrate in questa ruota voi non ne uscite più non ne uscite più non uscite più ne uscirete magari quando prenderete la pensione perché nel momento in cui inizia a lavorare sei fottuto non riuscirai mai a smettere di lavorare mai perché entri in un sistema tale per cui proprio non ce la fai difatti di tutte le persone che io conosco beate loro beate loro è che comunque vivono hanno vissuto tutta la vita senza lavorare e gente non ha mai lavorato anni fa voi non voi non so se lo ricordo bello l'ho misi sul canale anni anni fa poi dopo sto video andò perso ma l'ho misi forse 8 o 9 anni fa intervistai un amico che lui beato lui vive senza lavorare alla fortuna che padre la madre li passano tot e addirittura addirittura anche anzi andava anche andava anche a ibisa e prendeva l'appartamento ci faceva la crosta pure sugli appartamenti che sub affittava io ho misi il video suo lui non si vedeva in faccia è uno del nord è briazzolo però non c'è mai avuto voglia di lavorare non fa nulla di male avevo messo quel video lui diceva ma io non ho voglia di lavorare c'ho la fortuna che i miei di qui mi passano ma cosa farai un domani va bene tanto sono già passati dieci anni e questo qui da 30 è arrivato quasi a 40 anni non ha mai lavorato non ha mai lavorato i suoi camperano ancora 15 anni roba arriverà a 60 anni prenderà la sociale gli lasceranno qualcosa e tanto ha mai lavorato ma perché lui non è mai entrato in questo circo cioè prendetemi a me io ho iniziato a lavorare subito dopo la scuola avevo 20 anni ho fatto ho fatto automazione ho studiato un po fatto corsi automazione ho fatto mondo del lavoro sì è vero ho fatto degli anni sabbatici ho comunque preso i miei spazi anche lui ma sono sempre rimasto in questo sistema e anche adesso nonostante da qualche anno faccio un po di ore meno perché comunque faccio diciamo part time diciamo flessibile dove faccio sei ore ma ne posso fare anche sette o otto ma generalmente se non c'è tanto lavoro tendenzialmente ne faccio sei sei e mezza anche sei poi dipende se non c'è lavoro faccio un part time flessibile se faccio un po più di ore le faccio le metto in conto ferie adesso anzi con questi discorsi del lockdown compagnia varia ho anche ciò qualcosa come ciò più di un mese e mezzo di ferie da fare e quando poi andrò via la gente mi dà oh ma l'hombrano detto sei via no semplicemente le ferie come tutti gli altri cioè solo che io comunque me ne vado non è che sto lì e però dico nonostante io chiaramente adesso vedendo che comunque l'età della pensione s'allontana perché tutte le volte la legge fornero l'hanno allungata che poi assurdo che io devo andare a lavorare i giovani sono a casa per dirti però e anche io faccio parte di questo sistema è vero magari io penso che il discorso del part time sia una cosa buona ma quando tu entri in un sistema di lavoro non ne riesci a uscire non ne riesci a uscire non ne riesci a uscire io conosco tante persone per l'amore di dio che hanno cambiato mestiere ok che sono andate a migliorare che hanno comunque ho amici che comunque fanno lavori lavori non pesanti ho tanti amici che magari vivono io ho tanti amici che vivono alle canarie che di lavoro di professione fanno il blogger ho amici che fanno oltre il blogger fanno come lavoro la professione fanno lo scrittore che comunque sicuramente non è un lavoro che ti deve ti condiziona ad alzarti comunque tutte le mattine però lavoro e sempre lavorare devi sempre lavorare di produrre portare a casa ho amici che fanno il lavoro gli scrittori e tatuatori penso al buon Nicolai Nicolai fa il tatuatore anche lo scrittore c'è gente che conosco io amici miei che ripeto stanno alle canarie fanno sia lo scrittore che il blogger ho amici che fanno solo il blogger fanno il blogger o altri amici alle canarie che scrivono per riviste importanti e seguitemi anche sulla sul discorso di Patreon che ho questo mio amico per esempio che vive a Lanzarote che lui fa il blogger previste importanti mi passa anche dei buoni articoli che ogni tanto metto cioè quindi ci sono dei mestieri che non sono così pesanti e penso oggi per esempio a tutto quello che è il mondo dello smart working e del fatto di poter lavorare da casa per esempio le canarie stanno diventando una zona molto ricettiva per il discorso degli smart worker una fiscalità agevolata una situazione di caldo qui ci sono tanti lavori che oggi si possono fare da casa e che quindi non sono più lavori diciamo così opprimenti stressanti come quello di alzarsi alla mattina o andare in fabbrica è chiaro che poi ci sono anche dei lavori uno può anche lavorare part time può comunque inventarsi dei lavori dove comunque non ti devi sbattere magari otto nove ore al giorno perché comunque ha affinato magari delle tecniche di risparmio non spendi così tanto un conto è risparmiare un conto è taccaneggiare però ragazzi per esempio come vi dicevo www risparmiogonelmo.com del buongarbini per esempio lì ti puoi risparmiare che ve l'avevo detto sulla telefonia sulle bollette eccetera eccetera guardate un occhio e scrivetegli lambre 20 che vi fa anche lo sconto del 20 sulle tariffe e risparmio con elmo per esempio ma un conto è risparmiare cercare di non spendere tanto un conto è avere la possibilità ci sono tante professioni che secondo me ti danno la possibilità di non essere oggi con l'utilizzo di inter così stressato di dover andare in fabbrica io lavoro in una fabbrica per esempio però non sono stressato cioè nel senso che comunque entro in un orario decente esco un attimino prima lo faccio anche per evitare il traffico però anche io ho i miei impegni ma non riesci a uscire purtroppo non riesci a uscire cioè vivere senza lavorare devi iniziare nella vita a vivere senza lavorare a meno che sei figlio di papà e compagnia varia se no non esci più non esci più non esci più non esci più da 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 questa situazione certo o c'è anche gente che magari dice io vivo senza lavorare da quando 20 anni vivo alle spalle dei genitori genitori c'erano la pensione lavoro e magari non hanno mai lavorato ma non hanno mai iniziato a lavorare non sono mai entrati in questo meccanismo perché se no altrimenti uno veramente a 30 40 50 anni non ce la fai proprio a smettere a smettere per esempio di lavorare magari cambi professione fai un altro mastiere però veramente perché entri in un'ottica che veramente non ce la fai e quindi diventa veramente vivere senza lavorare certo che uno mi dice l'ambre vivere senza lavorare anche uno che vive magari di sussidi sì ma ho capito ma tanti vivono di sussidio perché purtroppo vorrebbero lavorare e non trovano lavoro o perché non riescono magari sono arrivati a una certa età e anche fisicamente non li poi non li prende più nessuno quindi quello non è vivere senza lavorare quello purtroppo vivono senza lavorare perché non hanno la possibilità di poter lavorare ma se trovassero un lavoretto secondo me non forte diciamo dal punto di vista fisico primiente secondo me andrebbero anche a lavorare è che solo che adesso non riesci a trovare lavoro anzi quello un vivere senza lavorare forzato che è una brutta cosa io sto parlando di scelte volontarie vivere senza lavorare lo possono fare veramente veramente pochissime persone io penso che in italia vivere senza lavorare sono veramente cioè poi bisogna anche vivere bene nel senso che vivi senza lavorare poi vivi 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 in taccagneria perenne no questo assolutamente no ma per vivere senza lavorare bisogna non iniziare a lavorare ragazzi ve lo dico chiaramente niente quindi io vi mando un abbraccio ma in taccagneria e buona stefano figliuolo ha fatto le magliette ma in taccagneria che ve le ho fatte vedere maglietta e bracciale scrivete a stefano che ce ne sono poche e che poi lo utilizzerà per le sue opere anche per aiutare la gente del donbass che è una situazione di merda niente vi mando un abbraccio e ringrazio tutte le persone che ci stanno invece aiutando proprio per la situazione tremenda che c'è nel donbass adesso c'è una decina di borse da preparare mi verranno fuori credo 34 pacchi da spedire purtroppo la situazione di merda lì invece siamo veramente nella m altro che vivere senza lavorare niente vi mando un abbraccio buona serata ragazzi comunque il mio consiglio è questo se volete vivere senza lavorare non dovete mai iniziare altrimenti se fate come me che entrate in questo circolo non ne uscite più al massimo potrete cambiare lavoro ma altrimenti non esci più ciao ragazzi